Per concludere, le piacerebbe vedere un giorno magari uno di questi ex proprio sulla panchina della Lazio Simeone ha detto tornerò? Non tocca a me, tocca al presidente Lotito. Io spero che il presidente sappia un po' credere negli uomini del passato e dare a loro anche delle possibilità. Presidente, tornando alla Lazio d'oggi, è rimasto sorpreso di Pioli? Sì, molto positivamente perché credo che Pioli abbia fatto un grosso lavoro, sta cambiando la mentalità dei nostri calciatori, ha dato anche un gioco a questa squadra e quindi può far bene. Io credo che questo sia un ottimo elenco, un elenco che deve credere nella sua professionalità, nelle sue possibilità e quindi poter raggiungere questo secondo posto che è senz'altro per quello che abbiamo visto nelle possibilità di questa Lazio. Presidente, a quanto è cambiato il calcio quando lei ha vinto lo squadetto nel 2000? Ma è cambiato tantissimo, è cambiato tantissimo un po' nella strategia, nella regia del calcio sia nazionale sia internazionale. In quelle epoche un po' si faceva riferimento molto alla figura del presidente, oggi invece è necessario avere un team di uomini, un team di grande professionalità che possa competere nel mondo calcistico nazionale e internazionale. Presidente, consiglio per affrontare una settimana come quella di oggi? Grazie.